Non so, mi ha preso un momento floydiano. Musica e social network. Ragazzi, qua scrivono, guarda cosa ti combina l'autotune, non è Raffaele Latico che canta, diteci chi è quella vera che canta su Rush. Non credono che sei tu? No, in realtà loro hanno ragione, c'era la mia sosia che canta su Rush. No, lei apre la bocca. No, noi sotto ci mettiamo lì. Ma tu live la sapresti fare? Come la sosia è tua? Non so, vogliamo provare? Che dite? Facciamo? Dai, proviamo. Vediamo, vediamo. Io non vi prometto niente, però, è la buona volontà. Ti muovi la bocca. Sì, come il sonico. Allora, ti esco un grubo. Un grubo, facciamo un grubo. Ti esco un grubo. Ti esco un grubo. Un grubo. Un grubo. Un grubo. Un grubo. Un grubo. Grazie a tutti. Come era? Carina, dai. Buono, buono. Ma si sente che non era lei. Vabbè ragazzi, lo sapete, dai, che dobbiamo fare. Ciao amici!